Il capitalismo è irreale. L'espressione realismo capitalista non l'ho inventata io. È stata già utilizzata negli anni Sessanta da un gruppo di artisti pop tedeschi e poi da Michael Schutzen nel suo libro del 1984, Advertising, The Uneasy Persuasion. In entrambi i casi si trattava di riferimenti parodistici al realismo socialista, ma quello che c'è di nuovo nel mio utilizzo del termine è il significato più ampio, persino esorbitante, che personalmente gli attribuisco. Per come lo concepisco, il realismo capitalista non può restare confinato alle arti o ai meccanismi semi-propagandistici della pubblicità. È più un'atmosfera che pervade e condiziona non solo la produzione culturale, ma anche il modo in cui vengono regolati il lavoro e l'educazione e che agisce come una specie di barriera invisibile che limita tanto il pensiero quanto l'azione. Ora, dal momento che il realismo capitalista sembra dipanarsi senza fratture o strappi e visto che le attuali forme di resistenza appaiono tanto impotenti e disperate, in che modo possiamo davvero contrastarlo? Una critica morale al capitalismo che enfatizzi le modalità in cui questo produce sofferenza altro non farebbe che rinforzare il capitalismo stesso. La povertà, la fame, le guerre possono essere presentati come aspetti inevitabili della realtà, mentre il desiderio di eliminare tanta sofferenza potrebbe facilmente essere derubricato a ingenuo utopismo. L'unica maniera per mettere in discussione il realismo capitalista è mostrare in qualche modo quanto sia inconsistente e indifendibile. Insomma, ribadire che di realista il capitalismo non ha nulla. Inutile dire che quello che viene considerato realistico, quello cioè che sembra plausibile dal punto di vista sociale, è innanzitutto determinato da una serie di decisioni politiche. Qualsiasi posizione ideologica non può affermare di aver raggiunto il suo traguardo finché non viene per così dire naturalizzata, e non può dirsi naturalizzata fino a quando viene recepita in termini di principio, anziché come fatto compiuto. Di conseguenza il neoliberismo ha cercato di eliminare la stessa categoria di principio, di valore nel senso etico della parola. Nel corso di più di trent'anni il realismo capitalista ha imposto con successo una specie di ontologia imprenditoriale, per la quale è semplicemente ovvio che tutto, dalla salute all'educazione, andrebbe gestito come un'azienda. Come ricordato da tanti teorici radicali, siano essi Brecht, Foucault o Badiou, Ogni politica di emancipazione deve puntare a distruggere l'apparenza dell'ordine naturale. Deve rivelare che quello che ci viene presentato come necessario è inevitabile. Altro non è che una contingenza. Deve insomma dimostrare che quanto abbiamo finora reputato impossibile è, al contrario, a portata di mano. Vale la pena ricordare che anche quello che oggi va sotto la voce realistico, fino a non molto tempo fa, era ritenuto impossibile. L'ondata di privatizzazioni a cui abbiamo assistito dagli anni Ottanta in poi sarebbe stata semplicemente impensabile appena un decennio prima. Allo stesso modo, l'attuale problema politico-economico, sindacati allo sbando, imprese pubbliche denazionalizzate, difficilmente sarebbe stato concepibile nel 1975. Al contrario, quello che un tempo veniva considerato possibile per definizione è oggi condannato come irrealistico. Come ha amaramente osservato Badiot, modernizzazione è il nome che viene dato a una definizione rigida e servile del possibile. Queste riforme puntano invariabilmente a trasformare in impossibile quanto a suo tempo era fattibile per i più e a rendere redditizio quello che non lo era per le oligarchie o dominanti. A questo punto è arrivato però il momento di introdurre un'elementare distinzione teoretica tipica della psicoanalisi lacaniana che Zizek ha contribuito a rimettere in circolo negli ultimi anni, la differenza tra la realtà e il reale. Come ha spiegato Alenka Zupancic, l'ipotesi psicoanalitica di un principio di realtà ci invita a sospettare di qualsiasi realtà che si presenti come naturale. Il principio di realtà non è una specie di modalità naturale derivata da come le cose stanno. Il principio di realtà è esso stesso ideologicamente mediato. Si potrebbe persino arrivare a sostenere che sia la forma più alta di ideologia, quella cioè che si presenta come fatto empirico, come necessità biologica o economica, e che tendiamo a percepire come non ideologica. Ed è proprio qui che dobbiamo prestare la massima attenzione a come l'ideologia funziona. Per Lacan, il reale è quello che ogni realtà deve reprimere. Meglio ancora, la realtà si costituisce proprio attraverso tale repressione. Il reale è una X non rappresentabile, il vuoto traumatico che può essere soltanto intravisto tra le spaccature e le contraddizioni della realtà apparente. Viene quindi da pensare che una prima strategia contro il realismo capitalista potrebbe partire dalle vocazioni di quei reali che sottengono la realtà per come il capitalismo ce la presenta. Uno di questi è la catastrofe ambientale. Certo, a prima vista le questioni ecologiche non danno esattamente l'idea di essere un vuoto non rappresentabile per la cultura capitalista. Più che inibiti, argomenti come i cambiamenti climatici e la minaccia dell'esaurimento delle risorse vengono essi stessi sfruttati dalla pubblicità e dal marketing. È però un modo di trattare la catastrofe ambientale che illustra alla perfezione il tipo di fantasia su cui poggia il realismo capitalista. L'assunto che le risorse siano infinite, che la terra altro non sia che un guscio da raschiare e che qualsivoglia problema viene risolto dal mercato. Una versione di questa fantasia è proprio Wall-E. Il film suggerisce l'idea che sia possibile una crescita infinita del capitale, che il capitale sia in grado di proliferare senza mano d'opera. Sull'astronave Axion tutte le mansioni vengono svolte da robot. Che l'esaurimento delle risorse sia null'altro che un intoppo temporaneo e che alla fine, dopo il giusto periodo di recupero, il capitale potrà di nuovo terraformare e ricolonizzare il pianeta. Nella cultura del tardo capitalismo, però, la catastrofe ambientale figura solo come una specie di simulacro, anche perché le sue reali implicazioni restano troppo traumatiche per essere assimilate dal sistema. Il senso profondo delle critiche mosse dagli ecologisti sta nel suggerire che non solo il capitalismo non è l'unico sistema percorribile, ma che proprio il capitalismo minaccia di distruggere l'intero ambiente umano. La relazione tra capitalismo e disastro ecologico non è né casuale né accidentale. La necessità di espandere costantemente il mercato e il feticcio della crescita stanno lì a significare che il capitalismo è, per sua natura, contrario a qualsiasi nozione di sostenibilità. Tuttavia, le questioni ecologiche sono già una terra di contesa, un luogo cioè dove per la politicizzazione si combatte. Di seguito vorrei invece sottolineare altre due aporie del realismo capitalista che ancora non sono state politicizzate come pure dovrebbero. La prima riguarda la salute mentale. Si tratta in effetti di un esempio paradigmatico. Il realismo capitalista insiste a trattare la salute mentale come se fosse un fatto naturale alla stregua del clima, il quale a sua volta non è tanto un fatto naturale quanto un effetto politico-economico. Già negli anni 60 e 70 teorici e politici radicali come L'Aing, Foucault, Deleuze, Guattari e altri si concentrarono su condizioni mentali estreme come la schizofrenia, suggerendo che, per esempio, la pazzia fosse una categoria più politica che naturale. Quello di cui però abbiamo bisogno ora è una politicizzazione di disordini assai più comuni. Anzi, è proprio il fatto che questi disordini siano diventati comuni che vale da solo la nostra attenzione. Oggi, in Gran Bretagna, la depressione è la condizione più trattata dal sistema sanitario nazionale. Nel suo libro Il capitalista egoista, Oliver James ha ipotizzato in maniera molto convincente una correlazione tra il sempre maggior numero di casi di sofferenza mentale e le varianti del capitalismo neoliberale in paesi come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e l'Australia. In linea con le affermazioni di James, ritengo che il crescente problema dello stress e dell'angoscia nelle società capitaliste vada reinquadrato, anziché scaricare sugli individui la risoluzione dei loro problemi psicologici, vale a dire, anziché accettare la generalizzata privatizzazione dello stress che ha preso piede negli ultimi trent'anni. Quello che dovremmo chiederci è com'è potuto diventare tollerabile che così tante persone, e in particolare così tante persone giovani, siano malate? La piaga della malattia mentale che affligge la società capitaliste lascia intendere che, anziché essere l'unico sistema che funziona, il capitalismo sia innatamente disfunzionale. Il prezzo che paghiamo per dare l'impressione che il capitalismo fili liscio è davvero molto alto. L'altro fenomeno che vorrei evidenziare è la burocrazia. Nella loro polemica contro il socialismo, gli ideologi neoliberali hanno volentieri puntato il dito contro quel verticismo burocratico che nelle economie pianificate si è tradotto in inefficienza generalizzata e sclerosi istituzionale. Col trionfo del neoliberismo, la burocrazia è stata quindi relegata a retaggio obsoleto, quasi fosse la reliquia di un passato stalinista verso cui nessuno poteva certo provare nostalgia. Questa interpretazione, però, non coincide con l'esperienza della maggior parte delle persone che vivono e lavorano sotto il tardo capitalismo, per le quali la burocrazia resta una parte importante della vita di tutti i giorni. La realtà è che, piuttosto che scomparire, la burocrazia ha cambiato aspetto ed è proprio questo suo aspetto inedito e decentralizzato che le ha permesso di proliferare. Che la burocrazia persista anche nel tardo capitalismo non è in sé un segnale che il capitalismo non funzioni. Semmai è la spia di come il modo in cui il capitalismo funziona davvero è molto differente dall'immagine che ne fornisce il realismo capitalista. Il motivo per cui ho deciso di concentrarmi su problemi mentali e burocrazia deriva in parte dal fatto che entrambi i fenomeni occupano un posto di primo piano in un'area della cultura dominata con sempre maggiore insistenza dagli imperativi del realismo capitalista. L'istruzione. Per anni ho insegnato in un istituto di formazione post-scolastica e quanto segue deriva in buona parte da questa mia esperienza. In Gran Bretagna, la cosiddetta further education è stata per molto tempo il luogo a cui studenti che spesso provenivano da un retroterra proletario potevano rivolgersi in alternativa alle istituzioni scolastiche più convenzionali. Da quando nei primi anni 90 i further education college sono stati sottratti al controllo delle amministrazioni locali, si sono ritrovati soggetti sia alle pressioni del mercato sia a una serie di obiettivi o target imposti a livello governativo. In questo modo sono diventati l'avanguardia dei cambiamenti che avrebbero coinvolto il resto del sistema educativo e i servizi pubblici nel loro complesso. Una specie di laboratorio in cui testare le riforme neoliberali. Da questo punto di vista non c'è luogo migliore per tentare un'analisi di quali siano gli effetti del realismo capitalista.